C'è un posto speciale in cui andare per fare il giro del mondo in meno di 80 giorni, viaggiando con la mente nei luoghi più lontani della Terra, oltrepassando frontiere, compiendo percorsi e raggiungendo mete visibili e invisibili, magari proprio a bordo di una mongolfiera. Quel posto è Pesche, piccolo borgo alle porte di Isernia che quest'anno, in occasione del Natale, ha voluto volgere lo sguardo sul mondo intero, su un globo illuminato che fa sognare e sperare. Ai piedi del paese ora campeggia un mappamondo, luminaria offerta da un pescolano, come grande gesto d'amore. In questi giorni di spostamenti limitati, di impossibilità a viaggiare, è possibile riscoprire la forza potente dell'immaginazione che può condurci in territori inesplorati, le parole del sindaco di Pesche, Ido De Vincenzi. Le luci che definiscono i continenti ci ricordano che siamo parte dell'universo e che è nostro compito curare e custodire con rispetto e amore il pianeta che abitiamo. Un'occasione per perdersi nel cosmo e magari ritrovarsi a visitare il suggestivo paese presepe nel cuore del Molise.